un picnic che si rispetti non può prescindere dalla scelta del cestino a dire la verità ve ne serviranno due uno per tenere in caldo tutto ciò che va servito caldo e l'altro per le bevande e per quello che volete tenere in freddo sceglieteli con l'interno termico ma anche con un esterno gradevole così il vostro picnic sarà non solo ben organizzato ma anche pieno di stile un'altra cosa importante è la coperta che sostituisce la tovaglia deve essere imbottita e abbastanza grande e con tanti cuscini per stare comodi i piatti ve li consiglio di plastica sono molto più leggeri da trasportare ma sceglieteli belli magari anche colorati qualcosa da leggere per non annoiarsi e infine un mazzetto di fiori per fare un piccolo centrotavola anche all'aperto purché preparato con dei fiori di campo raccolti da voi sul luogo grazie a tutti